Musica Quest'anno una novità, Ispra ha una stand e collab qui a Decomondo, perché? Allora, innanzitutto questo stand deriva da una collaborazione fra Ispra e la Fiera di Rimini in particolare Ecomondo, nell'ambito di un progetto che si chiama EcoBuy che ha l'obiettivo di evidenziare i prodotti a ridotto impatto ambientale in particolare i prodotti con il marchio Ecolabolo europeo EcoBuy vuole essere un momento di incontro tra domanda e offerta di prodotti a ridotto impatto ambientale in questo senso l'Ecolabolo gioca un ruolo principale essendo appunto un marchio di qualità ecologica per prodotti e servizi che evidenzia l'eccellenza ambientale quindi abbiamo organizzato questo stand qui grazie appunto anche alla collaborazione alla Fiera di Rimini proprio per dare visibilità alle aziende e infatti abbiamo varie vetrine con vari prodotti, campioni eccetera e anche per costituire vari momenti d'incontro fra domanda e offerta Qual è il ruolo di Ispra nelle certificazioni ambientali? Il ruolo di Ispra nelle certificazioni Ecolabolo è quello di supporto tecnico al comitato Ecolabolo Ecodit che è l'organismo competente italiano per il rilascio del marchio accanto a questo ruolo prettamente tecnico c'è anche un ruolo di promozione appunto nei confronti di questo strumento